buonasera a tutti buonasera a tutti oggi come sapete l'argomento non è dei più allegri perché parliamo di questa di questa cosa che molto triste che è successa di questo disastro della fuori via del montarone che è crollata con purtroppo le persone a bordo svariate vittime che ci sono state una solo un solo superstite un bambino che è riuscito a salvarsi ne parlavamo nei giorni scorsi con con l'ospite di stasera davide che vado rapidamente introdurre prima di farlo entrare in trasmissione davide è un ingegnere lavora lavora collina e l'ora parleremo anche un po dell'ina ed è molto interessato a queste cose perché si sta chiedendo da tempo come può essere successo tutto questo e lui però ha molte più nozioni di me quindi ci può effettivamente dare qualche qualche indicazione interessante anche perché effettivamente la prospettiva magari di andare in vacanza in montagna e prendere una funiglia dopo quello che è successo qualcuno potrebbe incutere un po di timore vediamo se questi timori sono fondati o non sono fondati adesso accogliamo davide nello streaming ciao davide ciao buonasera a tutti buonasera a te manuele grazie per questa proposta che mi hai fatto figurati allora davide come dicevo lavora un ingegnere smettiscimi se dico fesseria mi raccomando lavora per l'ina che come sapete è un è un ente estremamente importante perché appunto oltre a essere una sorta di grande assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è anche un ente che ti fa dei controlli che opera dei controlli e non soltanto non si non si basa soltanto sul fatto di pagare soldi ai lavoratori che si fa male ma previene tendenzialmente previene il infortunio sul lavoro andando anche a verificare la sicurezza dei luoghi di lavoro e non soltanto anche la sicurezza degli strumenti con cui si lavora eccetera eccetera e nel che tra l'altro è un ente scoperto molto antico nasce addirittura praticamente il primo germe nel 1883 e quindi è estremamente antico e tra l'altro nasce quasi con le stesse caratteristiche che abbiamo oggi solo che prima era riferito soltanto ai lavoratori agricoli perché essenzialmente c'erano quelli e poi naturalmente ci sono aggiunti tutti gli altri quindi adesso andiamo a parlare rapidamente di questa cosa che è successa io ve la volevo introdurre leggendo questo articolo che spiega tra l'altro a che punto sono le indagini che sono diciamo a un buon punto e vi leggo questo articolo tratto dal post allora dice la procura di verbale è disposto all'arresto di tre persone indagate per l'incidente alla funivia Stresa Mottarone è avvenuto domenica scorsa in cui sono morte 14 persone in seguito ad una caduta di una cabina gli arresti che dovranno essere convalidati sono l'amministratore della società ferrovia del Mottarone che gestisce la funivia il direttore del servizio e il capo servizio accusati di omicidio colposo e rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro questo è un reato che non conoscevo le tre persone arrestate sono accusate di aver bloccato consapevolmente l'attivazione dei freni di emergenza attraverso un forchettone un attrezzo metallico usato durante le manutenzioni di routine per inibire l'attivazione del freno questo attrezzo va tolto quando la funivia in servizio ma in questo caso sarebbe stato lasciato impedendo l'attivazione di almeno uno dei due freni di emergenza un forchettone era stato trovato dopo l'incidente ancora attaccato ai cavi della cabina caduta Hansa scrive che nella mattina di mercoledì è stato trovato nei boschi un secondo forchettone utilizzato presumibilmente per impedire il funzionamento del secondo freno di emergenza l'incidente era avvenuto quando una delle due cabine della funivia era quasi arrivata alla stazione finale del Mottarone a 1385 metri di altezza la cabina era collegata a due funi una trainante, quella che appunto viene trainata dal motore dell'impianto e permette la salita e la discesa è una portante su cui poggia il peso della cabina che è provvista in una serie di ganasce che frenano quando è ferma o nel caso di guaste incidenti a causare l'incidente era stata la rottura della fune trainante pochi metri prima dell'ingresso della cabina nella stazione di arrivo in seguito alla rottura la cabina era scivolata all'indietro lungo la fune portante fino a staccarsi in corrispondenza dell'ultimo pilone della funivia era caduta a terra da un'altezza di circa 20 metri e poi avevano continuato a rotolare a scivolare sul terreno in discesa per altre decine di metri gli arresti sono stati disposti eccetera secondo l'ipotesi della procura il forchettone sarebbe stato lasciato consapevolmente per evitare dei servizi e blocchi della funivia che da quando aveva ripreso servizio presentavano malie e avrebbe necessitato di un intervento più radicale con un possibile blocco del servizio si è trattato di una scelta consapevole dettata da ragioni economiche l'impianto avrebbe dovuto restare fermo la procuratrice ha spiegato che gli arresti sono uno sviluppo conseguenziale molto grave e inquietante degli accertamenti che abbiamo svolto nella convinzione che mai si sarebbe potuta verificare una rottura del cavo si è corso il rischio che purtroppo poi ha determinato l'esito fatale la presenza del forchettone potrebbe essere la ragione per cui dopo la rottura della fune trainante la cabina ha cominciato a scivolare a gran velocità verso valle anziché rimanere ancorata alla fune portante come avrebbe dovuto succedere se i sistemi di frenata avessero funzionato rimane da capire se il forchettone fosse stato applicato anche al secondo freno oppure no e in caso di risposta negativa la ragione per cui il secondo freno non ha funzionato secondo le indagini da quando il 24 aprile la fune via era stata riaperta al pubblico dopo la fine delle restrizioni per la pandemia erano state riscontrate alcune anomalie sull'impianto frenante di una delle due cabine proprio a causa di queste anomalie sarebbe stato inserito su almeno uno dei due freni di emergenza il cosiddetto forchettone in questo modo la fune via avrebbe continuato a funzionare regolarmente senza interruzioni causate dalle disfunzioni dei freni l'utilizzo del forchettone può consentire tuttavia di spiegare soltanto una parte della dinamica dell'incidente rimane ancora da curare la ragione della causa scatenante cioè la rottura del cavo di traino eccomi allora che dici Davide? come commenti? innanzitutto una piccola premessa io non sono un tipo da social network tante dirette tu stamani mi hai proposto di fare questa diretta sulle prime ti ho detto di no perché per questo motivo ma poi tutte le sciocchezze che ho sentito dire scrivere anche sull'estate di un certo di una certa levatura mi hanno infastidito ho detto ascolta allora io nel mio piccolo voglio dire la mia insomma la mia versione voglio dire alla luce insomma della mia esperienza sono 12 anni che ormai lavoro nel settore della sicurezza dei macchinari quindi un po' di esperienza penso di averla certo e volevo dire innanzitutto bisogna capire un po' innanzitutto c'è da fare luce su come funziona tu ora hai letto quest'articolo e appare un po' più chiaro perché molti parlano senza nemmeno sapere come funziona questo tipo di funivia è un tipo di funivia di tipo alternativo va e vieni che è dotata di tre funi diciamo cioè la fune portante la fune traente e poi la fune di sicurezza che serve per altri motivi e quindi su questo tipo di funivia la prima fune la fune portante ha il compito di sostenere il peso della cabina sulla fune portante sono applicate le rulliere a cui è poi vincolata la cabina le rulliere vengono trascinate nel movimento da una seconda fune che è appunto chiamata la fune traente altri tipi di funivia invece utilizzano una sola fune sono quelle del tipo continuo è una sola fune richiusa al loop quindi chiaramente queste funivia non hanno il dispositivo paracadute perché in questo caso supponete la classica tradizionale seggiovia nel momento in cui si dovesse rompere la fune non c'è non c'è paracadute non c'è niente tutte le seggio non cade solo la vostra cadono tutte le sedie immaginate le nuove le nuove funivie di nuova concezione con sedie a sette poste addirittura se avviene una rottura della fune quando la funivia è a piena capienza minimo fa 400 morti altri 400 li mettono in sedia a rotelle perfetto allora quindi questo concetto per introdurre il concetto anche qui tanta gente purtroppo sbaglia la fune una fune non si deve rompere assolutamente explicabilmente assolutamente infatti sono prescritti dalla legge dei controlli a cadenza trimestrale nel caso delle funivie invece a cadenza annuale delle indagini una fune non è che si fa manutenzione a una fune più che dargli un po' di grasso per tenere lontano l'umidità dal cuore della fune non ha altre manutenzioni però si controlla mediante il metodo magneto induttivo la vita di questa fune la salute di questa fune sento dire la fune era vecchia ha più di 20 anni ma non significa nulla se voi tenete una macchina chiusa in garage per 20 anni che quando andate a prendere è vecchia non è vecchia magari fate la manutenzione che dovete fare ma quella è sempre una macchina nuova è vero che una fune ha 20 anni di intemperi questo sì però insomma il controllo magneto induttivo serve anche per saggiare diciamo lo stato di corrosione da parte degli agenti atmosferici detto questo come funziona questo controllo il controllo funziona praticamente è un apparecchio dotato di un di un toro un solenoide attraversato quindi da corrente genera un campo magnetico il campo magnetico induce all'interno della fune un secondo campo magnetico e viene letto la disposizione delle linee delle linee di forza di questo secondo campo magnetico perché con questo metodo si riesce a capire la salute di una fune perché quando una fune presenta delle rotture dei tre foli rotti soprattutto all'interno dove quindi a occhio non si può vedere il campo magnetico concentra le proprie linee di forza in quegli spigoli che si creano se c'è una frattura se ci sono dei fili rotti questa indagine magnetoscopica ti dice guarda in questo punto c'è questo problema c'è una restrizione di sezione c'è dei tre foli rotti all'interno che te da fuori non vedi altra cosa ho già visto delle fotografie di questa fune che si sarebbe rotta con dei fili spezzati vedi vedi questa fune in che condizioni era questi sono ignoranti perché i criteri di controllo delle funi prevedono che una fune venga messa fuori servizio ci sono tanti criteri uno di questi è prendere una lunghezza pari a 30 volte il diametro della fune e verificare che all'interno di questa lunghezza i fili rotti non superino un certo numero quindi il fatto di trovare dei fili rotti non vuol dire assolutamente nulla e quindi nascono queste leggende sono queste le cose che danno fastidio poi occorre sapere il perché si mette il paracadute in questo tipo di funivia e invece in quelle di tipo a semplice cavo non potendolo installare è chiaro che non c'è paracadute si mette perché siccome in questo caso c'è possibilità di avere un'ultima spiaggia dovesse mai rompersi la fune c'è possibilità di avere un'ultima spiaggia implementando un dispositivo che è diciamo a un prezzo ragionevole non è una cosa complicata è molto facile ora in poche parole cerco di spiegarvi come funziona questo paracadute allora quando si può mettere e ha una ragione d'essere ce lo metto come funziona questo dispositivo paracadute dunque supponete che voi state montando questa funivia avete già messo i cavi portanti quindi mettete le due rulliere con le due cabine questa funetraente è fatta di due pezzi il primo pezzo viene montato il primo capo su una rulliera poi passa dalla stazione di monte fa tutto il giro che deve fare dai rinvii dalla puleggia motrice torna indietro e viene vincolato sulla seconda rulliera poi si prende il secondo spezzone si vincola una delle due rulliere si fa passare alla stazione di monte torna su e si vincola alla seconda rulliera fatto questo tutto questo questo loop che si è venuto a creare con la fune di trascinamento ora non mi viene il termine viene contrappesato perché alla stazione di monte dove c'è anche l'argano motore l'argano è appeso diciamo alla fune la fune che arriva in cima viene fatta divergere verso il basso e a quel punto attaccato a questa fune c'è l'argano con i suoi contrappesi che è libero di muoversi in verticale e dà quindi una tensione costante a questa fune scusate ci ho due gatti sono qui che rompono tutte e due spero eh per forza i gatti lo fanno allora è proprio la tensione di questi due spezzoni di fune che fa sì che le ganasce del paracadute stiano aperte quindi che non siano ammorzate alla fune portante è chiaro che quando dovesse succedere che questa tensione di frazione viene meno allora la ganasce si chiude alla luce di qui è un dispositivo molto semplice perché è una molla praticamente antagonista di questa forza di frazione se la forza di frazione viene meno la molla serra la ganasce quindi è un dispositivo molto semplice essendo così semplice è anche un dispositivo molto sicuro cioè non c'è verso che non intervenga infatti appena ho preso ho preso della caduta di questa di questa cabina la prima cosa ho detto ma come ha fatto a non intervenire il paracadute non c'è verso ora l'abbiamo capito perché non è intervenuto altra cosa non mi torna sento anche la sindaca di Stresa che dice che questo freno aveva dato anomalie ma ma che vuol dire che questo freno interveniva così a bello e buono allora il fatto quando interviene un paracadute voi immaginate cosa succede nella cabina immaginate per esempio di essere su un autobus di quelli del trasporto urbano in piedi attaccati ai sostegni andate a una velocità queste funivie vanno tipo verso gli 8,5 metri secondo equivale a 30 all'ora andate a velocità a 30 all'ora a un certo punto l'autista inchioda vi rendete conto che il macello succede dentro l'autobus quindi se allora questo dispositivo paracadute è sì un dispositivo di sicurezza ma se interviene a sproposito non è più di sicurezza fa esattamente l'effetto opposto allora io mi mi chiedo alla luce di quello che ho spiegato di come funziona questo dispositivo paracadute ma come ha fatto a intervenirgli cioè io sento ripetere anomalie anomalie ma cosa sono queste anomalie di preciso cioè per caso ti interviene il paracadute magari mentre c'è la cabina piena di gente che va che poi occorre dire un'altra cosa il paracadute paracadute sarebbe scusami questo questo freno di emergenza che diceva il paracadute non è un palloncino che si gonfia nel caso in cui la cabina cade come uno pensa ai paracadutisti dice pensa a quale no è semplicemente un freno viene chiamato così quindi volevo dire anomalia cioè cosa vuol dire che ti era intervenuto questo paracadute ma se veramente è successo è una cosa gravissima che intervenga il paracadute durante l'esercizio uno perché se interviene tu te lo devi chiedere perché è intervenuto appunto ma poi quando interviene il paracadute non è che poi se viene meno la causa che ha che ha causato l'intervento il paracadute questo automaticamente si riarma occorre l'operatore che salga sulla cabina con uno special tool una chiave e vada a riallentare questo proprio perché per costringere gli esercenti della funivia nel caso in cui intervenga il paracadute a chiedersi perché a guardarsi da rimettere in funzione la funivia senza chiedersi cosa sia successo quindi questo fatto di questa anomalia o me lo spiegano o altrimenti io non capisco perché chiaramente non è cioè come tu hai spiegato è un sistema assolutamente meccanico che si basa esatto le forze quindi non è che c'è un dispositivo nel senso di un dispositivo elettronico che potrebbe spiegarsi io ho sentito parlare di centraline ma non ho assolutamente capito probabilmente è una centralina ma non certo che gestisce il paracadute magari rileva l'intervento del paracadute lo segnala ma non ci può essere perché questi sono i dispositivi di sicurezza estremi li chiamo io l'ultime spiagge sono tutti dispositivi semplici che non hanno bisogno di energia elettrica o attivazioni esterne per entrare in funzione ma sono di tipo automatico e sono infatti talmente semplici proprio perché si ha la matematica certezza che quando devono intervenire intervengono infatti oggi la prima risposta l'ho avuta non ha funzionato il paracadute perché era stato bypassato come hanno fatto bypassarlo? come dici? dicevo come hanno fatto bypassarlo? qua parlavano di un forchettone allora sì chiaramente la ditta che realizza la rulliera mette anche il dispositivo per paracadute siccome poi devi fare anche delle prove di vario tipo magari con le funi allentate nasce l'esigenza di poter escludere cos'è questo forchettone? è una staffa è uno special tool una staffa che ti danno in dotazione insieme che esempio vi posso fare nella macchina in alcune macchine moderne per levare i bulloni nelle ruote c'è un bullone particolare fatto per evitare che ti rubino la gomma e allora quel bullone lo devi levare con questa chiave questo forchettone non è altro che un attrezzo particolare che tu incastri fra le granasce e quello li tiene divaricate va bene? viene fornito perché durante le prove le varie prove che si fanno in cabinovia c'è in alcune di queste prove c'è l'esigenza di non fare intervenire questo freno perché si vogliono testare altre cose per cui viene fornita in dotazione ma secondo me un attrezzo di questo tipo dovrebbe essere tenuto sotto chiave non può essere alla mercè così di un gestore della funeria poi io ripeto a me queste anomalie che dicono o chiariscono che tipo di anomalie perché io non posso credere che abbiano avuto il problema a questo freno che gli entrava durante il normale esercizio della funeria anche perché ripeto richiedendo l'intervento di un operatore ma immaginate voi ci sono funerie che sono pazzesche quella del Pordoi non so se ci sei stato se chi ci ascolta c'è stato c'ha dei baratri pazzeschi ma se ti si ferma si entra in paracadute per qualche motivo quando sei in mezzo lì alla campata poi puoi avere condizioni meteo avverse ma chi ti viene a riprendere lì come fanno non c'è verso quindi praticamente è quasi più rischioso il freno cioè no allora se serve chiaramente io prima di morire preferisco restare appeso magari due giorni in un baratro di 100 metri si aspetta che le condizioni meteo migliori non mi vengano a prendere con l'elicotico o prima di sfracellarmi preferisco tutto però capito è un dispositivo è come l'airbag dell'automobile cioè se interviene perché hai fatto un incidente ben venga l'airbag ma se ti esplode così a bello e buono mentre te stai guidando ma mi dici te che dispositivo di sicurezza è è bene è un'assurdità è certo e quindi tornando a noi ora il il motivo per cui non è entrato il paracadute l'ho capito l'ho capito è normale ma il motivo per cui si è spezzata la fune questo mi manca questa fune era stata controllata dalla Leitler che è una delle più prestigiose eh aziende del settore funidario io li conosco perché nel lontano 2009 io andai a fare un colloquio di lavoro da loro e avevano fatto i controlli magnetoinduttivi nel novembre del 2020 e avevano ottenuto esito positivo come ha fatto questa fune a distanza di sei mesi da un esito positivo al magnetoinduttivo a spezzarsi questo è un grande mistero io ho pensato oggi che forse la rottura di questa fune con le anomalie di questo freno possano in qualche modo essere correlate che magari la fune in realtà non si è spezzata la fune ma piuttosto si è spezzato il supporto che tiene attaccata la fune alla rulliera questo già mi tornerebbe meglio già farebbe quadrare un po' e farebbe intravedere anche una concatenazione tra rottura fune e mancato intervento e paracadute soprattutto tutte quelle anomalie di cui parla questo sindaco di Stresa però insomma finché non ci dicono se la fune effettivamente si è rotta e perché si è rotta perché adesso i periti devono andare a recuperare questa fune e sottoporla al microscopio nella sezione che si è fratturata perché da questa sezione da questa sezione si ricavano moltissime informazioni perché tu vedi se l'acciaio che ha ceduto ha ceduto per snervamento se ha ceduto per fatica se trovi che alcuni trefoli in realtà sono già arrugginiti quindi in realtà erano già rotti da diverso tempo e hanno subito quindi una corrosione non lo so finché non ci danno questi elementi chiaramente io però sono chiaramente sono sbigottito perché ripeto una fune non si deve rompere una fune con questo tipo di controlli con la tecnologia di oggi dà la sicurezza al cento per cento ma poi pensate le funi metalliche per sollevamento o per trasporto sono notevolmente sovradimensionate con un coefficiente di 6-7 volte il tizio che il gestore della funivia che un anno deve cambiare la fune della sua funivia si presenta da quello che produce le funi gli ordina 10 km di fune del 30 si prepara a sborsare centinaia di migliaia di euro va bene e chi gli vende la fune gli vende anche un certificato che dice guarda questa fune io l'ho prodotta da questa colata che aveva questa composizione chimica che ha avuto questo metodo di raffreddamento poi io a fine ho tagliato un pezzo di questa fune l'ho messo nel mio laboratorio in cui faccio i controlli l'ho tirato ho calcolato il carico a snervamento il carico a rottura per cui io ti certifico che questa fune non solo è omogenea in tutta la sua lunghezza ma che ha queste caratteristiche e per farvi un esempio dicendo coefficienti 6 7 vuol dire che se la vostra funitia al massimo il carico massimo che porta sulla fune per esempio facciamo a titolo di esempio sono 1000 kg la fune ne regge almeno 7000 prima di snervarsi chiaro poi piano piano col tempo si logora il carico a rottura diminuisce ma arriverà a 6000 5000 la fune lavora a 1000 kg quindi siamo su dei criteri di sicurezza elevatissimi ma poi questo criterio magneto induttivo non rileva tutto rileva tutto non c'è verso non c'è verso quindi o la Leitner ha fatto un'indagine e poi ha dichiarato altre cose differenti da quelle che sono emerse e non capisco perché non capisco perché potrebbe averlo fatto o non gli funziona bene la macchina induttiva per cui non ha ma non c'è verso perché sono tutti certificati queste macchine quindi niente per me resta un enorme punto interrogativo la rottura di questo cavo e poi come ti dicevo oggi per chat la cosa che a me mi impressiona cioè proprio quella proprio quella vettura che era stata bypassata col paracadute proprio a quella gli si va a romper la fune ma ma come cioè è una è una coincidenza troppo probabilisticamente 0,0001 per mille la possibilità che si verifino ma quante volte avete mai sentito dire che una funivia è venuta giù perché si è spezzata una fune ci voleva io l'ho sentito la funivia del Cermis ma perché c'è passato un aereo ma giusto ma giusto perché c'è passato l'aereo a parte questa io non l'ho mai capita come fa un aereo che è fatto da alluminio a tranciare un cavo del 60 di acciaio temprato anche questa io sinceramente cioè ha tagliato il cavo e l'aereo si è fatto appena una scheggia misteri lo scoprirò magari quando troverò qualcuno esperto da aeronautica glielo chiedo e quindi proprio a quella cabinovia si va a rompere la fune ma non c'è verso cioè io credo che le due cose siano concatenate e poi anche questa cosa che gli ha dato anomalie anomalie di che tipo un termine che usano per dire che non lo sanno praticamente esatto a me mi dà mi dà a pensare che sia piuttosto una scusa per andare a giustificare il fatto che avessero messo questo bypass al al paracadute ti dicono oh ma vi ha dato problemi i giorni precedenti io per non farlo intervenire perché se mi interviene succede quel casino che mi succede ma poi tenete presente un'altra cosa che non è uno scherzo andare a recuperare cioè allora una cabina è venuta di sotto quell'altra invece si è arrestata regolarmente col paracadute ma l'hanno fatto vedere in tv come hanno dovuto recuperare tutta la gente che c'era dentro perché una volta interveni il paracadute non riesci a farla scorrere e riportarla alla stazione quella sta inchiodata lì la devi evacuare immaginatevi quella era alla stazione di arrivo a pochi metri da terra va bene ma ecco vi si dovete evacuare cento persone sul passo del Pordoi in mezzo alla campata ma come fate ma poi il panico che si può scatenare dentro una funidia 30-40 persone chiuse in un ambiente piccolo ma il panico si può scatenare ma voi vi ricordate nel disastro del dischettino della costa Concordia io non lo so se lo sapete ma la maggioranza dei morti sono morti non perché sono affogati perché sono cascati dalla nave perché la nave si rovesciava o morti congelati e mani titaniche sono cascati nella tromba dell'ascensore perché la nave è rimasta senza energia elettrica non sono intervenuti i generatori di emergenza e le porte degli ascensori di piano si sono aperte senza che dietro ci fosse l'ascensore la gente nel parapiglia c'era tutte le scale piene non si poteva muovere si è aperta la porta dell'ascensore hanno detto c'è l'ascensore lo prendo vado al piano di sotto all'ascensore e sono accadute tutte le hanno trovati quasi tutti in fondo la tromba è l'ascensore questa cosa non sapevo quindi l'intervento fuori luogo di un paracadute rischia di essere un grosso problema quindi praticamente diciamo che noi abbiamo due concause per ostia quindi la rottura della fune e questo fatto che il paracadute non è intervenuto tuttavia stiamo dando una grandissima enfasi a questa seconda causa mentre invece forse dovremmo veramente interrogarci sulla prima che è quella veramente più seribile scusa se ti ho interrotto l'enfasi sulla seconda causa perché suona bene dire avevano avevano manomesso il dispositivo per una questione economica perché gli conveniva la faccia di tutte le vite che c'erano sopra io allora va bene fossi stato io gestore mai e poi mai avrei permesso di continuare però valutando tutto io capisco che l'hanno messo perché non si possono permettere che gli si inchiodi una fune una cabina durante l'esercizio certo lo dovevano mettere fuori 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 servizio ma l'hanno fatto perché se veramente questo freno di emergenza gli ha dato i problemi gli hanno dato l'hanno messo perché non se lo potevano permettere un blocco simile perché porta grossi problemi proprio anche di tipo poca cosa problemi quindi ci hanno marciato molto e fa cronaca facile quella di amplificare lo hanno fatto per una questione economica e suona bene poi dai si presta bene anche per fare un articolo di giornale purtroppo si vive in questa società insomma quando si può speculare su una notizia non si fa sconti tutto va eh sì diciamo che questo è abbastanza abbastanza facile come sistema alla fine è abbastanza come dire rodato il sistema io devo devo trovare devo trovare un motivo per cui la gente compra il mio giornale e quindi devo pompare la notizia crearla se non c'è allora che cosa è che fa vendere il giornale più o meno le stesse cose che fanno funzionare i social network l'indignazione la paura ehm quindi la rabbia i sentimenti base quelli di quelli di inside out insomma l'omino che ti dia fuoco con la testa quello eh i sentimenti base però ultimamente noto che i sentimenti negativi come la rabbia e la paura stanno avendo il sopravvento su sentimenti più positivi che magari dovrebbero però forse non è del tutto vero comunque ehm che si fa praticamente la gente è spaventata ha bisogno di trovare un responsabile ha bisogno di scatenare la propria come dire vendetta sociale come la vogliamo capire sì qualcuno che ha la colpa il sistema penale in un certo senso è un sistema fatto per definire chi c'ha la colpa ma attenzione non per trovare sempre un colpevole per tutto quello che succede perché non sarebbe la prima volta che succede un disastro ma nessuno viene incolpato o addirittura eh o magari diciamo viene incolpato qualcuno ma per per cose minori che non comportano per esempio reclusioni o cose genere ma magari delle multe questo può succedere naturalmente cioè quindi non si deve partire dal presupposto che ora qualcuno pagherà per quelle vite purtroppo noi ci affidiamo a una tecnologia a una tecnica che ci dà tantissime tantissime cose ma che una volta su un milione per qualche motivo che magari non si sa che sfuggia al nostro controllo si tradisce ma forse proprio questa idea che la tecnologia può sfuggire al nostro controllo queste cose che noi costruiamo meravigliose però sfuggono al nostro controllo ma del resto diciamo ci siamo immersi io per esempio sono ovviamente seduto su un solaio che potrebbe che ne so crollare io potrei cascare di sotto potrebbe cascarmi il soffitto in testa o che ne so potrebbe cadere un fulmine purtroppo diciamo nessuno è assicuro se uno considera e tu sicuramente c'è una grossa esperienza gli incidenti che possono capitare avrai sicuramente avuto cognizioni di incidenti che uno dice ma come diavolo è successo ma una volta su due milioni è successo proprio a te però l'imponderabile succede non c'è un motivo per cui succede a te sei più buono sei più cattivo Dio ti vuole mandare una punizione o cosa che purtroppo succede però l'imponderabile il caos questo è un aspetto che la mente umana rifiuta e quindi ha bisogno di trovare una ricostruzione per quanto vincolante in cui è comunque dovuta la mano umana perché è tranquillizzante sapere comunque è la mano umana che provoca che rende sicure le cose ma anche che le rende insicure beh sì comunque aspettiamo questa fune perché io ripeto ancora sono sono scioccato nel senso che una fune che abbia passato brillantemente i controlli ciao e che si tranci in questo modo ma poi ti dico una fune metallica prima di strapparsi da da non è così traditrice traditrice da dei segnali perché o serpeggia o si imbozza da da mille segnali si allunga perché poi anche la fune è monitorata anche in lunghezza a parte che via via che si allunga eh si diminuisce la sezione quindi già il controllo magnetoscopico rivela che la sezione resistente è minore di quella della tolleranza ammessa ma poi eh la distanza fra stazione di monte e di valle cioè quella è fissa chiaramente a meno di movimenti orografici tettonici però come dicevo prima siccome l'argano è appesa a questa fune e c'è anche una scala millimetrata che capisce che permette di capire a che quota si trova l'argano per cui eventuali allungamenti della fune durante l'esercizio vengono registrati e chiaramente se si va fuori tolleranza è segno che c'è un allungamento anomalo della fune cioè io che questa fune non abbia dato nessuno di questi segnali non c'è verso quindi o non si è rotta la fune si è rotto l'attacco sulla rugliera oppure se si è rotta la fune ma fa caso a sé fa storia fa letteratura questa fune che si è rotta così pur avendo dato dei controlli positivi al magneto induttivo fa letteratura veramente eh sì o l'unica cosa che mi immagino è che uno un giorno si è andato a pulire il tetto della funeria con l'acido muriato e gli è cascato un po' d'acido sulla fune ecco allora in questo caso lo capisco però devono trovare in quella sezione che ha ceduto una una corrosione spinta da acidi o qualcosa del genere devono fuori però e verrà fuori se è così ecco va bene sì sì allora senti io andrei verso la conclusione con una domanda che ci apre verso il noi cioè ma le funivie sono sicure assolutamente sì perché si parte dal concetto che una fune non si deve rompere non si rompe cioè non si rompe oggi c'è una tecnologia talmente avanzata che permette di avere questa certezza ma infatti non vengono giù le funivie ne abbiamo migliaia in Italia non capisco perché questo è venuto giù non lo capisco e quindi niente la risposta è sì sono sicuro andateci tranquillamente dormite tra due guanciali dentro una funivie a meno che non ci sia un gestore privo di scrupoli però le funivie sono controllate dalla motorizzazione controlli analoghi a quelli che faccio io nella mia professione cosa fa la motorizzazione dopo queste operazioni di interventi di manutenzione annuali la motorizzazione interviene con un suo ufficio particolare e controlla se veramente tutte queste prove e queste operazioni di manutenzione sono state fatte e come sono state fatte quindi c'è un ente terzo della pubblica amministrazione che va e controlla quindi nemmeno se uno ci vuole risparmiare con la manutenzione è controllato se i controlli non tornano ti ferma la furidia quindi non c'è verso quindi scriveva scriveva Alessio dice ma questi non dovrebbero questi controlli non dovrebbero essere esterni infatti sono anche esterni che vuol dire esterni? cioè fatti da diciamo detto una delle persone restate per l'omicidio proposito non è anche responsabile dei controlli questi dovrebbero essere esterni? ma saranno sarà responsabile dei loro controlli interni però certamente la ditta è la Lightner che gli ha fatto i controlli è una ditta esterna e poi i risultati vengono visti dalla pubblica dalla motorizzazione quindi non c'è verso non è una roba esclusivamente interna assolutamente bene se avete altre domande fatele perché diciamo stiamo stiamo per concludere diciamo grosso modo le questioni le si sono dette altrimenti le scrivete sotto nei commenti tanto penso che il video si possa rivedere anche sì sì il video si può rivedere all'infinito potete scrivere sotto nei commenti se avete altri dubbi e noi rispondiamo io chiuderei con una considerazione anzi con due considerazioni uno è il discorso del groviera che ti facevo oggi che è secondo me un concetto bellino per capire che viene utilizzato per spiegare come succedono come succedono i disastri praticamente i disastri spesso sono una concatenazione di casualità che si allineano tutte insieme c'è uno scienziato che per spiegare questa cosa diceva immaginate di avere come dire una camera oscura con da una parte una luce e dall'altra il vostro occhio che dovrebbe vedere la luce ma tra la luce e l'occhio c'è una serie di barriere che sono bucherellate come se fossero fette di formaggio groviera quindi bucherellate è un po' a caso uno c'è un buco in alto uno in basso uno in mezzo eccetera se la luce la accendete la luce passa dalla prima barriera alla seconda attraverso il buco però poi non riesce a riflettersi sul secondo buco sul buco che sta nella seconda barriera voi per vedere la luce dovete fare sì che questi buchi siano tutti allineati quindi ci deve essere una casualità notevole notevole e quindi nella sua metafora l'incidente si verifica quando tutte queste casualità si si mettono in fila ancora più casualmente quindi una doppia casualità e che tra l'altro da un lato rassicura perché spiega come mai questi incidenti sono comunque sono comunque estremamente rari e un altro diciamo discorso tratto da da un altro youtuber che era un appassionato e ancora un appassionato di aeronautica che parlava anche di incidenti aerei problemi sugli aerei diceva voi non dovete sempre pensare che la mano dell'uomo il comportamento umano provochi l'incidente certo succede anche questo ma dovete anche considerare che la mano dell'uomo è ciò che nel 99% dei casi provoca la sicurezza fa sì che voi possiate volare sicuri perché perché c'è chi controlla perché c'è chi guarda perché c'è chi si preoccupa c'è chi si preoccupa ah dice Alessio che la Gruber ci ha trasmesso sulla 7 sì sicuro no appunto quindi c'è la mano dell'uomo che rende sicure le cose non c'è solo la mano dell'uomo che guasta le cose che invece escano perfette dalla fabbrica perché la macchina che non sbaglia mai le ha fatte perfette arriva all'uomo e le guasta a parte che l'uomo le ha progettate ha progettato la macchina che fa le cose quindi bisognerebbe avere un po' più di fiducia nell'uomo lo capisco che è difficile soprattutto di questi tempi probabilmente tante persone in montagna non ci vanno o non prenderanno la funivia quest'anno per questo motivo sarà un grosso problema che tutti si chiederanno ma questa funivia funziona non funziona va bene non va bene però la verità è che appunto è una disgrazia che è successa nessuno se l'aspettava tanto meno chi ci è salito naturalmente ma vedremo nei prossimi giorni quindi mi raccomando come al solito siate molto esigenti sulle vostre fonti di informazioni cercate di capire dov'è che il discorso non quadro non torna e soprattutto basatevi su su questo criterio che è molto semplice ma non è che quest'articolo è scritto apposta perché io mi debba indignare arrabbiare spaventare eccetera eccetera e quindi sia invogliato a leggerlo perché se così è perché la realtà non è così un rapporto dell'Inal io non ho mai letto uno ma sono sicuro che non è scritto con l'intenzione di ingegnare chi lo legge o di spaventare chi lo legge è scritto mostrando i pro i contro tutte le varie situazioni tutte le varie circostanze di cui alcune sono irrilevanti alcune sono irrilevanti però io te le scrivo non so immagino che sia così Davide sì ecco sono asettiche sono asettiche quindi più asettico è l'articolo probabilmente più è veridico però magari è proprio l'articolo che non vende quindi siccome non si non gira non si diffonde e non lo legge è così va bene allora io ringrazio moltissimo Davide per l'aiuto perché ci ha dato un bel chiarimento secondo me e vi saluto a probabilmente una prossima diretta non so ancora l'argomento però ho diverse idee ciao a tutti e buona serata buona serata